Un investimento importante che ora è necessario far affruttare al meglio, il castello di Santa Severa accoglie finalmente l'atteso annunciato Ostello della Gioventù, composto da 14 camere in grado di ospitare fino ad un massimo di 42 persone, il progetto con vista sul mare risulta essere all'altezza di quelle che erano le aspettative iniziali. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire standard dal di sopra della media italiana ed europea. È una giornata molto importante che ha radici molto lontane perché il castello di Santa Severa era o poteva iscriversi in una delle tante liste di fallimenti annunciati delle proprietà pubbliche di pregio che o vengono destinati all'abbandono o vengono destinati all'incuria. Questa, permettetemi di dire, scelta di campo, come ha detto la dottoressa, culturale, di aprire nel castello di Santa Severa quello che io penso sia il più bello ostello della gioventù e delle famiglie di tutta Europa. Ringrazio davvero in questo Lazio Crea, gli architetti, la squadra che, come vedrete, davvero ha messo passione e amore in questa impresa di costruire, non in maniera burocratica, un bel luogo per le famiglie, per le ragazze e i ragazzi che ovviamente con i quali si avvia anche un'idea nuova di ostello. Circa 50.000 visite accertate nell'arco di 12 mesi sul fatto che il castello del Comune Laziale rappresenti un fiore all'occhiello per quanto riguarda il patrimonio storico, artistico e architettonico della regione non c'è dubbio. Adesso bisogna però crearli intorno nuove strutture, realizzando ad esempio un parcheggio migliore e un'attività di ristorazione nell'area esterna, oltre a valorizzare i prodotti enogastronomici locali. Tutto questo per renderlo un polo culturale all'insegna della tecnologia ma dal respiro antico.